Sempre ricordarsi che nella partita precedente hanno rimontato gli Orlando Magic che due o tre problemini li avrebbero, per esempio si scopre ora che la sconfitta di New York è attribuibile in parte anche al fatto che alle ore 0300 AM Ante Meridiem si gavazzava il locale con 5 o 6 membri della squadra. Vero anche questo, Xinjiang è sul terreno di gioco, ecco perché ci sono le scritte cinesi, perché sperano di vederlo almeno per un minuto e li ha accontentati con Carlisle. Xinjiang imbarazzò la Lega intesa come NBA anni fa, rischiano di andare allo Stargame al posto di Novitzki e Garnetta grazie ai voti che arrivavano dall'ex Celeste Impero. Fu necessario difendersi, scudare dai voti del Celeste Impero.